Sono appena tre le autorizzazioni concesse per l'occupazione del solo pubblico. Gli operatori del settore sono sul piede di guerra, non escludono una protesta un mese e mezzo dalla Pasqua. Il comune di Sulmona, tramite la polizia locale, ha proceduto negli ultimi giorni a verificare le singole posizioni degli operatori commerciali, che non hanno provvenuto avversamento di quanto dovuto. Gli agenti della municipale si sono così recati nelle singole attività oggetto di contestazione. Hanno elevato 40 verbali da 100 euro ciascuno per un totale di 4.000 euro di sanzioni amministrative. Tutto è partito dalla comunicazione diramata dalla Socet, società incaricata dal comune di Sulmona per la gestione della TOSAP, che ha rilevato l'assenza di pagamenti da parte di alcuni operatori nel corso del 2023. Per questo è scattato il blitz dei vigili urbani come atto dovuto. Passata l'emergenza pandemica, sarà quindi applicata la lettera alla legge sul federalismo fiscale. La deroga ai permessi che resta concessa durante il Covid per agevolare l'uso di spazi all'aperto risulta infatti scaduta a dicembre 2022, almeno a Sulmona, che aveva accordato una proroga. Per questo qualche commerciante non ha più versato quanto dovuto, ma dalle verifiche effettuate sono emerse anche delle incongruenze. La multa della municipale è arrivata anche a qualche sercente che era in regola, con i pagamenti. Questo perché gli uffici comunali non avrebbero comunicato né alla Socet né alla Polizia Municipale. L'autorizzazione è concessa. Siamo pronti a sanare e a rivedere queste anomalie, assicurano dal comando dei vigili urbani, ricordando inoltre che per l'occupazione del solo pubblico non vige il principio del silenzio assenso. È capitato infatti che alcuni operatori commerciali hanno inoltrato la richiesta al Comune, hanno piazzato tavoli e sedie senza attendere la risposta degli uffici. In alcuni casi sono passati mesi e mesi. Se le richieste venissero evase con tempestività, ogni esercente avrebbe modo di conoscere la propria posizione. Non possiamo fare passare il messaggio che gli operatori sono morosi, perché ci sono domande per anni tenute nel cassetto. Non è possibile che al momento sono state rilasciate solo tre autorizzazioni. Tuonano alcuni commercianti pronti a dare battaglia.